Un festival della luce e del design, la riqualificazione del Tempio Voltiano, infopoint integrati, mostre ed eventi da gennaio a dicembre. Sono alcuni dei punti chiave del dossier presentato da Como, Cernobbio e Brunate per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura. Ieri l'invio del documento al Ministero dei Beni Culturali, in finale assieme al capoluogo lariano altre nove città italiane. Ora non resta che aspettare il verdetto, entro il 30 ottobre si conoscerà la vincitrice del 2016, per il 2017 invece bisognerà aspettare il 15 dicembre. Estro armonico, le stagioni del lago è il titolo del dossier che punta a rilanciare il territorio lariano partendo da una produzione culturale che copra l'intero anno e dalla valorizzazione del paesaggio, in primis quello lacustre. E così viene proposto stagione per stagione quello che sarebbe il calendario 2016 degli appuntamenti, molti dei quali già noti al pubblico, dal Festival della Luce a Miniart Textile, passando per gli spettacoli del sociale per citarne alcuni, ma da sviluppare e promuovere in chiave diversa. Gli eventi che già si tengono in città e che hanno abitualmente un ambito provinciale piuttosto che regionale, il tentativo e l'ipotesi che si va a fare è quella di renderli più diffusi e quindi con una comunicazione più mirata a un territorio più vasto. Il primo evento completamente nuovo invece sarà il Lake Como Light Design, che coinvolgerà alcuni luoghi simbolo di Como, Cernobbio e Brunate, ma soprattutto scuole, creativi e aziende del territorio. Al centro del dossier che in gran parte ruota intorno alla figura di Volta, anche la riqualificazione del Tempio, invece dal punto di vista architettonico, sia per quanto riguarda l'aspetto espositivo da innovare, con un progetto interamente sostenuto dai privati. Esclusi dal dossier, al contrario di quanto ipotizzato inizialmente, i piani di recupero del Politeama e della Casa del Fascio, perché non realizzabili in tempi brevi. In totale un progetto da oltre 11 milioni di euro, conto che comprende anche il contributo ministeriale, circa un milione che arriverebbe, in caso di vittoria, le risorse da mettere in campo per le produzioni, 3,3 milioni di amministrazioni, registrazioni, enti, sponsor e ricavi dei biglietti, e gli investimenti per opere permanenti, come gli oltre 6 milioni già stanziati per la riqualificazione del comparto di Villa Olmo, progetto inserito nel dossier anche se i lavori, il cui iter è ancora da definire, probabilmente partiranno dall'esterno e dalle strutture accessorie. Tutto questo va a definire qual è il costo complessivo di un anno della cultura in città, Grazie. Grazie.